con anna comarella val di dentro un bellissimo terzo posto per lei in opa cup quanto ci voleva questo risultato ciao a tutti oggi sono veramente contenta perché le gare in classico mi piacciono molto e volevo vedere a che livello ero con le altre quindi questo risultato insomma mi dà un fiducia sono contenta del risultato di oggi sensazioni avute nel corso della gara sei stata sempre lì con le migliori a un certo tutto sembravi anche averne forse anche qualcosa in più è in salita mi sentivo molto bene so che ho sbagliato a fare lo scolinamento perché ho visto che la tedesca ha spinto veramente forte invece io ho dato una spinta avevo le gambe corte e mi sono lasciata andare diciamo quindi lì ho sbagliato però insomma dai la prossima volta spingo più forte comunque ti sei giocata la vittoria con la con frae bel che era la tua avversaria in opa cup junior due anni fa anche questo secondo me a livello morale è una cosa importante per te sì noi battagliamo sempre della gara poi dopo siamo anche abbastanza amiche insomma quindi è bello sempre gareggiare con lei davvero stimolante ecco ora ti prepari a vivere il tour de ski cosa ti aspetti e devo ancora decidere se parteciperò alle gare del tour dei ski perché la prima gara non è proprio il mio format quindi vedrò cosa fare però sicuramente sarò dopo alle gare di nove mesto ecco quello sì ok quindi sei soddisfatta però adesso per questo momento della della tua stagione è abbastanza dai devo ancora trovare le giuste sensazioni però insomma piano 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 ogni tanto in qualche gara ci vede qualcosa grazie mille piano 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 piano